Oggi venerdì il Vangelo ci presenta la moltiplicazione dei pani. Sarebbero occorsi, diceva Filippo, 200 denari per darne almeno un boccone ciascuno e Gesù in un attimo ha fatto il miracolo. Oh che bello, possiamo sognare e sbaglieremmo, perché invece Gesù prima ha detto, voi cosa avete? Due pani e due pesci. No, ho sbagliato, cinque pani e due pesci. Ebbene, Gesù parte da quello. Gesù può fare tutti i miracoli che vuole, però se noi non gli diamo i cinque pani e i due pesci, nessun miracolo avviene. È la situazione di oggi. Evitiamo di fare poesia sulla fraternità, sulla fame nel mondo. Non facciamo poesia, domandiamoci, ma io i miei cinque pani, i miei due pesci, li metto a disposizione? Oppure quello che è mio è mio? Ho cinque pani, me li tengo tutti e cinque. Non vi sembra che sia la situazione di oggi? I ricchi tengono tutto per sé, i poveri non hanno da tenere nulla perché non ce l'hanno. E allora oggi senza nessuna poesia io dico ciascuno di noi avesse anche solo un pane, faccia metà e metà. Volete un piccolo esempio? San Martino di Tour ha dato metà del suo mantello. Buona giornata!